Ultima di Quattro Fratelli, trascorre l'infanzia a Saonara, dove i genitori gestiscono una salumeria. Dopo aver conseguito la maturità classica, intraprende l'attività di attrice, partecipando a qualche spettacolo teatrale. Nella primavera del 2001, arriva la sua prima esperienza televisiva come figurante nel programma La Sai l'ultima, in onda su Canale 5. Nell'autunno dello stesso anno diventa nota presso il grande pubblico, prendendo parte come concorrente alla seconda edizione del reality show Grande Fratello, dove viene eliminata nel corso della decima puntata, con il 44% dei voti. Al momento della partecipazione al programma lavorava presso una banca. Stare accanto a mia figlia mi ha aiutato a recuperare la bellezza dell'osservare i dettagli, del sorprendermi e godere delle piccole cose. Quando è mancato mio fratello il dolore è stato immenso. Avevo perso energia, stimoli. A lungo, mi ero ritratta in me stessa. Lavoravo moltissimo per non pensare. La ferita è ancora aperta, ha dichiarato la conduttrice in un'intervista rilasciata a gente. Eleonora ha ribadito che suo marito Giulio e la figlia sono la sua forza, la sua fonte di energia. Se non fosse arrivata mia figlia non so se sarei riuscita a superare quel lutto. Carlotta mi ha insegnato a ricominciare. Con lei è come se fossi rinata. Eleonora ha poi confidato che oggi si sente meno insicura rispetto a quando era adolescente, ha preso consapevolezza del suo essere donna solo da qualche anno. Infine, ha rivelato che anche il suo modo di rapportarsi con la fede è cambiato dopo la morte del fratello. La fede per me ha un grande valore, ma sono cambiata anche in questo. Mi capitava di pregare e di chiedere aiuto al Signore. Poi ho capito che la fede passa anche attraverso il gioire di ciò che hai, e soprattutto, attraverso la gratitudine.